. 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 Perché? Perché hai detto no in audizione? Perché? Claudio, che è il tuo lavoro? L'attore. No, 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 no. Il tuo lavoro è solo dire sì per me. Hai capito? È una minaccia. Ok, prova, 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 prova. Microfone bene. Musica per favore. Musica per favore. Musica per favore. bravo questo è un giro casa di risotto ma oggi no risotto oggi no acqua per amore equilibrio quest Ok, tutti, guarda il su. Wow. Non è facile, non è facile. Non è facile. Che bello. Bravo, bravo. Bravo, bravissimo. Non sei male, è amato. Ci ha messo un altro capo? Io, 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 io sono davvero troppo figo. Grazie a tutti. Per me è sì. Sì, 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 Claudio, sì. Bravo, Claudio, hai imparato. So fuori. Bravissimo. Io lo trovo molto poetico. La cosa dell'acqua è bellissima. Mi è piaciuto da matti. Sì, grazie. Semaru, io ti amo. Semaru, ci vediamo dopo. See you later. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao ragazzi. Vi è piaciuto questo video? Pensate di saper fare ancora di meglio o addirittura di meritarvi un golden buzzer? Allora dovete iscrivervi ai casting per la prossima edizione di Italia's Got Talent. Andate su questo sito oppure chiamate questo numero. Vi aspettiamo. Ciao. Allora dovete iscrivervi al nostro canale.